sì sì è vero è un periodaccio ma non dobbiamo farci abbaccare anche il mondo della cultura non se la passa bene ma nonostante questo non vuole saperne di stare fermo d'altronde come potrebbe cinema concerti teatro mostri mancano a chi ci va e mancano a chi li fa ci torneremo presto ma fino ad allora morale alto per quanto possibile perché l'arte ha tante facce tante forme e persino tanti movimenti e soprattutto si può fare ovunque anche nei posti più impensabili su dai proviamoci benvenuta a tutte e benvenuti a tutti questa è the square la nuova avventura di sky arte in questo momento le porte di cinema arte teatro e musica devono rimanere chiuse e allora questo diventa il posto ideale perché qui le porte non le abbiamo proprio the square è pronta a ospitare chiunque in questo periodo avrà qualcosa da dire in ambito creativo cominciamo grazie a tutti grazie a tutti